Mediterranea Mediterranea è un'associazione che è nata con lo scopo di garantire il salvataggio dei migranti nel Mediterraneo centrale e più precisamente nella zona SAR, nella zona Search and Rescue. È un'associazione che è stata fondata nel 2018 quindi relativamente giovane e si compone di equipaggi di terra e di equipaggi di mare in base alla città appunto in cui è presente l'equipaggio di Mediterranea e l'obiettivo principale è quello di raccogliere fondi per permettere appunto a questa nave che è la Mare Ionio che è una nave di salvataggio appunto che batte bandiera italiana di continuare a salpare i mari appunto per salvare vite umane. Oltre appunto le missioni di salvataggio Mediterranea si occupa anche di fundraising e quindi si occupa di organizzare aperitivi, eventi, conferenze, convegni, festival dove vengono invitati anche dei personaggi comunque del panorama che fanno parte appunto del panorama di salvataggio delle persone per raccontarci sia le loro esperienze ma anche per fare formazione o comunque per darci degli spunti su come lavorare al meglio. Siamo solo volontari sia sanitari che non sanitari e collaboriamo con questo obiettivo principale. La barriera che puntiamo a superare è quella della mancata libertà di movimento che purtroppo c'è in questi anni soprattutto in questi anni ma in realtà è una barriera che è sempre presente nella storia dell'essere umano ovvero quella del non essere liberi, di non considerare gli esseri umani ugualmente liberi di migrare, di superare difficoltà senza delle frontiere quindi di muoversi da un paese all'altro cercando qualsiasi cosa ritengano buona per la propria sopravvivenza senza appunto essere bloccati, arrestati, torturati perché questo è quello che poi effettivamente avviene nelle frontiere.